Il cartellone di accoglienza turistica del Comune di Sammetto del Tronto Il cartellone di accoglienza turistica del Comune di Sammetto del Tronto per i giovani Mare Moto, poi Mare Aperto che è un festival dedicato al mare che l'amministrazione comunale ormai organizza da otto anni poi ci sarà la festa della Madonna della Marina, poi ci sarà la notte di mezz'estate, la notte tra il primo e il 2 agosto e poi ci sarà tanto tanto altro. Ogni giorno ci saranno eventi, più di un evento dedicato ai giovani e meno giovani anche ai bambini quindi ci sarà veramente l'imbarazzo della scelta.